Ora vedremo insieme una serie di punti che ci servono per terminare il trattamento. Questi punti fanno parte del cosiddetto bilanciamento finale, che è la sequenza che si applica dopo aver rilasciato le tensioni del collo e delle spalle. In particolare i punti che andremo ad imparare sono i seguenti, il punto I alla base dell'occipite, il punto J sulla sommità del capo e anteriormente il terzo occhio, il punto B nel centro del torace, un punto alla base dello sterno e il punto D sotto l'ombelico. Vedremo adesso in dettaglio tutti questi punti. I primi tre punti sono posteriori e in particolare il primo punto, Jin Shin Do Yi, che si trova nella fossetta occipitale centralmente. Quindi sentiamo la linea dell'occipita e andiamo a sentire centralmente la fossetta dove il muscolo incontra l'osso. E' la fossetta centrale che ci serviva come punto di partenza per identificare il punto Jin Shin Do 22. La pressione viene portata leggermente agganciando sotto l'osso, in questo modo. Il punto successivo lo chiamo punto J e si trova sulla sommità del capo. Per trovarlo da seduta in questo modo sento la punta dell'orecchio.